Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo ancora dalla 1 dove a causa di lavori si registrano 4 km di coda tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta in direzione Bologna. Passiamo sulla 11 dove a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sempre a causa del traffico intenso in Fipilì da segnalare code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze e rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandicci in entrambe le direzioni. Tantieri di Firenze per i lavori propedeutici alla realizzazione della tramvia a partire da domani sera in Viale Lavagnini restringimenti di carreggiata da Viale Strozzi all'incrocio con Via Landino. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!